Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, è arrivato il momento della collaborazione con il gruppo facebook The Colors of Youtube se mi seguite sapete che ogni mese facciamo un video in collaborazione, io come al solito vi lascio in info box tutti i riferimenti quindi sia il link del gruppo facebook sia i link di tutti i canali che partecipano alla collaborazione quindi vi invito ad andare a vedere anche i loro video per questo mese abbiamo pensato a qualcosa di un po' particolare perché il video si intitola le mie 10 accoppiate preferite e irrinunciabili quindi ognuno di noi mostrerà 10 coppie di cose che assolutamente devono essere utilizzate insieme quindi non ci può essere una cosa senza l'altra io ovviamente vi parlerò delle mie 10 cose che devo assolutamente utilizzare insieme e ovviamente negli altri canali vedrete cose diverse ma io comincerei subito perché credo che sia più facile fare questo video che spiegare questo video quindi cominciamo subito con la prima coppia che assolutamente per me è irrinunciabile ossia il cappuccino e il cornetto quindi non c'è cappuccino senza cornetto perché per me sono assolutamente due cose che devono essere consumate insieme non ci può essere un cappuccino senza un cornetto, un croissant, una brioche comunque qualcosa di questo genere perché io credo che il cappuccino sia veramente buonissimo se viene associato a una cosa di questo genere io devo dire che tutte le mattine bevo il cappuccino e tutte le mattine mangio una brioche, un cornetto insomma a seconda a volte magari ne mangio metà se si tratta di una brioche un po' più grossa o perché magari ci abbino anche due o tre biscotti insieme perché poi dipende io faccio colazione a casa quindi il cappuccino che bevo io non è quello del bar è quello di casa quindi a volte ci sono delle variazioni però c'è sempre comunque il cornetto, la brioche affiancata al cappuccino la seconda coppia che assolutamente è irrinunciabile è l'attività fisica con la musica quindi non ci può essere per me attività fisica senza musica perché io se faccio attività fisica e non ho un sottofondo musicale mi annoio a morte e quindi devo avere della musica tenete presente che io faccio attività fisica a casa quindi io non vado in palestra io faccio più o meno un'ora di step tutti i giorni quindi io ho proprio uno step piccolino un mini step di quelli insomma da appartamento quindi una cosa poco ingombrante e tutti i giorni almeno un'ora di step la faccio però se non ho la musica quasi non riesco a fare lo step perché altrimenti come vi dicevo è una cosa lunga e noiosa quindi assolutamente non ci può essere la mia ora di step senza la musica poi la terza coppia che assolutamente è irrinunciabile questo forse più di tutte le altre cose non c'è viaggio senza macchina fotografica quindi il viaggio e la macchina fotografica devono essere assolutamente accoppiate perché se io faccio un viaggio o anche una gita di mezza giornata in un posto magari nuovo o comunque in un posto particolare dove vado per rilassarmi per passare del tempo per scoprire qualcosa di nuovo devo avere con me la macchina fotografica perché mi diverto perché mi piace perché voglio portarmi a casa comunque dei ricordi anche visivi e quindi i miei viaggi sono sempre accoppiati alla macchina fotografica adesso veniamo alle cose diciamo un pochino più fashion la quarta coppia è la gonna e i tacchi quindi non ci può essere gonna senza tacchi perché secondo me per quello che è il mio parriere il mio gusto personale con la gonna bisogna portare i tacchi almeno io con la gonna devo portare i tacchi perché altrimenti non mi ci vedo proprio che credo che una gonna indossata con un paio di scarpe con il tacco sia qualcosa di molto più elegante di molto più affascinante comunque i tacchi slanciano rendono anche secondo me proprio più bello il capo che stiamo indossando quindi gonna e tacchi assolutamente non deve essere per forza un tacco 12 può essere anche un tacco un po' più basso però io la gonna corta ovviamente perché se è lunga magari è diverso ma la gonna corta con le scarpe proprio basse io non riesco proprio a vedermela indosso quindi gonna e tacchi poi c'è un'altra accoppiata che assolutamente per me è irrinunciabile che è il primer con l'ombretto quindi non ci può essere ombretto senza primer questo perché se io mi metto l'ombretto e non uso il primer praticamente l'ombretto mi va a finire sopra alle sopracciglia e non è più sulla palpebra non so perché ma è sempre stato così non sono mai riuscita a portare un ombretto e a farlo durare sulla palpebra senza il primer quindi io assolutamente devo utilizzare il primer con l'ombretto quindi è proprio irrinunciabile un'altra cosa sempre in questo ambito che diciamo voglio utilizzare in coppia è il rossetto e la matita per le labbra quindi non ci può essere rossetto senza matita labbra perché mi piace andare a definire comunque il contorno delle labbra con la matita mi sembra una cosa che viene meglio insomma mi piace di più ovviamente parlo di rossetti a stick perché se è un rossetto liquido oppure un lip gloss quindi qualcosa per le labbra che non sia proprio il classico rossetto stick allora posso anche utilizzarlo senza matita altrimenti devo mettere la matita un'altra cosa è lo smalto con il top coat quindi non ci può essere smalto senza top coat questo perché dura di più perché mi piace di più perché poi si va a formare un effetto lucido quindi utilizzo sempre smalto e top coat insieme ovviamente prima lo smalto e poi il top coat ovviamente parlo non parlo tanto della base coat ma proprio del top coat quello che date alla fine perché mi sembra che l'unghia sia più bella adesso sulle unghie ho questo smalto qua che è dorato e credo che non si veda con questa luce perché è molto chiaro però insomma anche adesso io comunque ho messo il top coat un'altra accoppiata irrinunciabile è il cellulare con la cover quindi non ci può essere cellulare senza cover perché mi sembra che sia nudo il cellulare senza una cover non vi so spiegare perché però è proprio così a me piace quando il cellulare ha la sua cover e io devo dire che le cambio spesso io ho parecchie cover per il cellulare poi vi farò un video anche sulle mie cover perché vedo che è un video comunque in generale anche sugli altri canali che va abbastanza che interessa abbastanza quindi poi lo farò però comunque io sono una persona che cambia spesso la cover del cellulare mi piace averla diversa ogni giorno anche a seconda dell'umore che ho a seconda del mio abbigliamento a seconda anche del clima se magari piove o c'è il sole insomma io faccio delle scelte anche basate su questo e assolutamente cover e cellulare devono andare insieme un'altra accoppiata irrinunciabile è lo spazzolino con il filo interdentale quindi spazzolino da denti e filo interdentale io tengo molto alla pulizia dei denti sono una persona comunque che si lava i denti dopo mangiato anche se mangio solo semplicemente una nocciolina io mi lavo i denti quindi qualsiasi cosa io abbia mangiato dopo mi devo lavare i denti infatti mi porto sempre lo spazzolino mini dentro la borsa quindi anche se sono fuori casa io trovo un bagno e mi vado a lavare i denti perché assolutamente è una cosa mi dà proprio fastidio non lavarmi i denti se ho mangiato qualcosa e quindi essendo così maniaca della pulizia dei denti io utilizzo anche il filo interdentale quindi ogni volta che utilizzo lo spazzolino da denti devo utilizzare anche il filo interdentale quindi accoppiata irrinunciabile e l'ultima cosa che ho tenuto per ultima perché ho aperto questo video facendo un'accoppiata alimentare e voglio chiudere il video facendo un'altra accoppiata alimentare quindi gelato alla crema è cannella non c'è gelato alla crema senza cannella io quando mangio il gelato alla crema anche alla vaniglia ma soprattutto se è alla crema devo mettere sopra al gelato una spolverata di cannella perché se manca mi sembra proprio che non sia la stessa cosa quindi quando mi compro il gelato magari al supermercato e lo compro alla crema di solito poi ci vado a mettere sopra un pochino di cannella perché è un'accoppiata che mi fa sentire bene mi piace quindi io assolutamente queste due cose le mangio insieme ok queste sono le mie dieci accoppiate preferite e diciamo irrinunciabili tra virgolette perché poi non esiste niente di irrinunciabile però comunque sono dieci cose che se posso utilizzare insieme in coppia comunque mi fa piacere fatemi sapere nei commenti se c'è qualche coppia che per voi è assolutamente irrinunciabile che sono curiosa scrivetemelo giù vi invito come vi dicevo all'inizio ad andare a vedere i video anche delle altre ragazze degli altri ragazzi che hanno partecipato a questa collaborazione vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme mettete un like Grazie a tutti